e anche adesso è una lotta questa lo so che in qualsiasi momento essa potrebbe finire con un colpo di pistola allora qui vengono notevoli individui nota bene, ai tempi di lockdown e con arie di sfida scattano foto del mio ufficio ecco, quelli che rappresentano i nostri servizi segreti cioè KGB e FSB talvolta mi pedinano lungo il mio percorso casa ufficio lo so, se ci sarà un comando lo esegueranno per certo una volta me l'ha detto un generale in modo pure diretto non ti abbiamo ancora ucciso solo perché non c'è tale ordine non appena ci sarà tale ordine lo eseguiremo per certo e per me la vita esiste solo in quel modo e non lo so secondo me anche per lei è così la vita esiste solo in quel modo Grazie per la visione! Grazie a tutti!